Dalla Norvegia una tecnologia straordinaria nel mondo della fitoterapia. La tecnologia si chiama MEDIS e permette di veicolare come un substrato tutte le sostanze a livello intestinale e aumentare la biodisponibilità di quelle sostanze a livello cellulare e mitocondriale. Questa tecnologia e questa azienda straordinaria dalla Norvegia ha messo a punto numerosi prodotti, tra questi il Prostalen, un prodotto per l'infiammazione prostatica, veramente straordinario perché contiene oltre a tecnologia MEDIS anche il Pigeum Africanum e la zucca che hanno particolari proprietà antinfiammatorie e di rigenerazione dei tessuti soprattutto a livello della prostata. Oppure l'epimineral, un prodotto importantissimo con delle piante fitoterapiche, quindi è chiaro, che ci permettono di nutrire le nostre cellule con numerosi minerali. Oppure l'episulforafano che ha un prodotto che ci permette di fare un'azione antinfiammatoria soprattutto sui tessuti, sulla pelle, sulle articolazioni e che combinato con il licopene fa un'azione antiossidante e antinfiammatoria simultanea contemporanea a livello cellulare. Tre prodotti che potrebbero essere usati insieme, se ne assume due capsule al giorno, che permettono di fare un'azione antinfiammatoria e soprattutto di supplementare quelle carenze nutrizionali che oggi non troviamo più nell'alimentazione quotidiana che le nostre cellule hanno bisogno per vivere in maniera sana. Questi prodotti oltre a trovarli in tutte le farmacie le trovate sul nostro sito www.saywallbankitalia.it